Una giornata significativa che si incardina nella settimana mondiale per la tutela della salute mentale e un impegno condiviso da una vera e propria rete, formata da oltre 20.000 persone, tra le quali ci sono 6.000 utenti presi in carico dai servizi. Centri di salute mentale, associazioni, cooperative, professionisti, famiglie e volontari si sono ritrovati in un affollato incontro organizzato a Termoli, un evento che ha seguito la riunione tenuta lo scorso giugno a Vinchiaturo per evidenziare le esigenze e le priorità di un sistema che punta sulla qualità, l'integrazione e la tutela dei livelli essenziali di assistenza. Gli interventi sono stati coordinati dallo psichiatra Angelo Malinconico, direttore del centro di salute mentale di Termoli e condivisi con i responsabili delle strutture di Campobasso e Isernia, Franco Veltro e Sergio Tartaglione. Le priorità sono una riconversione delle comunità terapeutiche ex case famiglie, una priorità è la non riduzione del personale, considerando che il budget messo a disposizione per la salute mentale è già metà di quanto normato dalle leggi regionali e nazionali. Fondamentalmente questi due. Poi c'è il discorso degli inserimenti lavorativi, delle cosiddette borse lavoro, da poco rinnovate, che noi chiediamo assolutamente vengano messe a regime. Un confronto costruttivo con il direttore sanitario della ASREM Giuseppina Arcaro, il direttore generale per la salute della regione Molise Mariella D'Innocenzo, l'assessore Vittorino Facciolla, la consigliera Fusco Perrella e l'assessore comunale Maria Chimisso. Diverse le richieste che arrivano dalle associazioni e dalle cooperative impegnate insieme ai centri in un intenso lavoro finalizzato a migliorare la qualità della vita degli utenti e delle loro famiglie. Se si coprogetta rete salute mentale, regione, ASREM, le risposte ci sono al di là di cospicui aumenti dei finanziamenti. Occorre razionalizzare, occorre progettare in un modo razionale.